Ciao ragazzi, volevo parlare di una cosa importante, io sono un grande appassionato di WWE e tifoso di Roman Reigns e questa notizia è una bella che è legata, Roman Reigns è ritornato in WWE e non lotterà subito però ha già fatto comunque il suo bell'ingresso andando ad aiutare Dean Ambrose insieme a Seth Rollins è andato ad aiutare Dean Ambrose che era soverchiato da Drew McIntyre, Bobby Lashley, Baron Corbin e Elias sono andati, è andato prima Seth Rollins con una seggiola, poi dopo un po' è arrivata Roman Reigns Roman Reigns ha fatto un paio di Superman Punch e una spia e non ha subito nessuna caduta se che per quello forse non lo trà subito perché un po' subito è caduta e se lo dovranno far perdere dovrà subire una cura di caduta e la seconda cosa è, beh hanno salvato Dean Ambrose però non niente, non l'hanno abbracciato l'hanno preso, l'hanno levato, sono abbracciati e sono andati via e Dean Ambrose è rimasto comunque li guardava e ragazzi qui sotto nei commenti questo è un video così piccolino per un'informazione per informarvi a voi che mi seguite, sotto nei commenti scrivetemi se secondo voi si riunisce lo Shield inizia la fede tra lo Shield e Baron Corbin, Drew McIntyre, Bobby Lashley e forse forse pure Elias, Baron Corbin, Drew McIntyre, Lashley e Elias contro Shield, come vi ho appena detto oppure Roman Reigns aiuta Seth Rollins a restar me come vi avevo detto questo è un video di informazione, scrivete pochi minuti e iscriveteci, ciao!